Italia Football Club Tutti gli anni per noi Vinitalia un grande appuntamento e quest'anno abbiamo deciso di farlo coincidere con la presentazione del nostro nuovo progetto che si chiama Il Bio. Il Bio è un vino biologico le cui uve provengono dalla nostra tenuta di Montefalco e è un 2015, è in purezza ed è veramente un prodotto molto interessante. Dal 2014 nella tenuta di Montefalco siamo certificati bio, è il nostro modo di essere. Io dico sempre siamo sostenibili per egoismo perché noi siamo degli agricoltori e tutti coloro che lavorano giorno dopo giorno con la terra devono pensare a preservare il nostro ambiente. Secondo me è un nostro dovere ben preciso ma anche un nostro interesse ben preciso perché è dalla terra che viene la nostra vita e il nostro futuro. L'amore per la nostra terra, per la nostra Umbria è qualcosa che caratterizza il nostro modo di essere, della nostra famiglia, di tutta la nostra azienda, di tutta la nostra squadra. Siamo veramente Umbri nel cuore, nel profondo. Ciao Italia Football Club!